Io adesso vorrei provare Singed perché voglio vedere se riesco a beccare i razzetti, cioè sono bellissime Facciamo qualcosa con Singed, gente che flippa, Singed Pie che era carino, secondo te è ancora giocabile? Singed Pie che è carino, sì Non so se funziona ancora Singed Cassio Col veleno penso di sì Leona bannata Fanno Swain Già bannato, ah GG Ah, mi hanno detto, mi sforzo una Mumu oppure vuoi provare Singed Pike? Singed Pike, mi sforzo una Mumu mi sembra un po' noiosa, cioè ulti ulti fill No, one shot è base, è per vincere Se vuoi più trollare Noi abbiamo un onore da mantenere Può essere anche Singed Poppy Anche? Secondo me Pike era più carino insieme a Singed Comunque c'è quella Moving Speed, corre in giro per la mappa, non lo so Va bene, va bene Oh, vedi in base anche a cosa hanno preso adesso Giocavo Yumi Singed Pike Ho Singed Pike oppure Poppy, comunque c'hanno Alistar Warwick che saltano addosso, vedete? Dove ti porta il cuore davvero? Vabbè, il mio cuore mi porterà sempre da Pike, bro Allora Che skin metto con la gialla, con la rosa? Project? Quella che ti piace di più, ho messo quella maschera della peste Black Scourge, Singed Ok, metto la Project Trundle, Trundle, Cave Mamma mia, che trai artoni che sono tutti i tipi Io metto Project Pike Singed Pike Singed Pike, ci abbiamo, che tragedia Alec, Atem Classici nomi dell'est Europa Oh, è figa quella skin di Drandon Ma poi, hai visto anche la differenza di skin tra champion maschile e champion femminile? Tipo, champion maschile Mordekaiser lubrificante anale Champion femminile Carezze delle stelle a calibro Ovvio Morgana calcine antiscivolo versus Sion, nemico della finanza Cosa posso... Quale oggetto posso prendere qua? Fammi pensare Oh, Gabion Stroud, dai Fanculo Ok, forse saremo un po' deboli Il primo game Sì, forse Ma non è detto Io sono Pike Questa skin sembra soul fighter Qual è il piano? Aspettiamo qua, li facciamo avvicinare e poi li buttiamo fuori Quando... No bro Not like this E io almeno mi sto dando da fare qua Vai, pie la pianta sopra se riesci E... Sei vivo? Per adesso sì Eh, niente Non c'ho attack speed Eh, dobbiamo far chiudere un attimo il cerchio Si chiuderà qua Altra pianta che prendono istantaneamente Sicuramente dovevamo aspettare un pochino Stiamo qua Di flippi No Aiuto Ma come si sia... Vincibile Oh No 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 Pianta Non ci credo Non ci credo Oh my god La pianta Sì C'ha detto il tipo La pianta bro Uff Oh mio dio Io c'ho il coso che ci abbiamo... Ci abbiamo tipo un laser tra di noi costantemente Oppure il double buff Eh, il double buff è troppo forte Mi serve mana Il laser è figo Però tu scappi quindi no Oddio Il laser tra di noi non è male Però vai double buff Vado double Eh, se non ci fosse stato il double buff Ma uso troppo mana Cioè, prima dovevo spegnere il gas pure No Spegnere il gas No Eh, dovevo spegnere il... Eh, costa, costa Quelle bollette qua Vabbè Se loro aspettano noi va bene, eh Within my grasp Corriamo, corriamo Facciamoli... Corro Ci sono i portali che puoi prendere Sì Recati gli HP Recati gli HP Non... Dove? C'è il red C'è il red Il red ti cura pure Eh, lo so Vai Eh... Sì, sì Io ci provo Io me sto qua dentro Aiuto Wink Wink E' che... No, ma perché cerchi il fight da early Cioè, fai chiudere il cerchio Cioè, se loro stanno fermi ad aspettarci Faglielo aspettare, capito? Cioè, hai cercato di fightare da subito? Quello dico Poi noi perdiamo sempre perché sulle piante siamo lenti Con i champions Che scarpe dovrei farmi secondo te, eh? Le swiftness Secondo me è magic pen Anche se è magic pen E quelli che mi fanno trapassare i muri come ce li vedo? Una merda Non lo so se si disattivano perché fai il danno col veleno Forse swiftness sono good perché hanno due trundle Casti una spell or attacchi Will end his effect Ok, l'ora non è un gran che Vado swiftness, dai Perché prima tipo ero perma slow out Non riuscivo a muovermi Adesso già il gas attivo? No, ma se lo hito tipo Sei tu un nemico? Non lo so Io vado a prendere la pianta dagli altri lati Sì, sì Prendila tu che hai la ulti Con la sopra Ci sono Questa è l'ola, posso ultare a breve? Il gaming Beccati il gaming Guarda Eh Se me lo fai il time prendiamo più gold Più pianta sotto Vabbè, io non faccio danno C'è questo problema Oh, che palle sto game Vabbè Che si teletrasporta out Sgasate Ok Però io volevo ultarlo Faceva la Q Con il teletrasporto indietro All'infinito Qua di HP ne vedo Non so se però Se fare Liandry O fare Riftmaker Forse Riftmaker è meglio, sai Non lo so A me Liandry fa cagare Posso essere onesto Mi sa che Stramega ha nerfato In questa modalità Non mi è piaciuto Eh beh, che si è nerfato, sì Flippiamo il coso lontanissimo Vado a Riftmaker Flippiamo nell'altro campo Eh, sì Ci abbiamo provato Vado a Axiomar E il rely dopo lo faccio Anche adesso serve al giusto Facciamo farlo chiudere qua O comunque fare Sono sopra Ok, abbiamo due piante Cioè, guarda Io c'ho le scarpe anti-slow Sono perma-slowato Sborra Eh Guarda Sono perma-slowato What the fuck, bro What the fuck Cosa ho le swiftness a fare What? Eh, vabbè No No Eh, qua è successa la tragedia, purtroppo Cioè, ho flippato Warwick Ma non me l'ha flippato Perché ho usato la pianta Nello stesso Preciosi stunt Nah, tragica sta roba Hailing and regen Haling and regen Yew duo deal Cioè, mi fa fare danno in base a Quando mi curo e rorigen Quindi altro DPS in teoria su di me Oppure c'ho tre dragon soul random Secondo me non sono male dragon soul Dici che fan schifo Dove me fanno cacare la dragon soul? Questi qua rollali Prendi uno figo Cioè come augment questi qua li puoi rollare Ok, c'ho il barn Ottimo questo Oh my god, questo è huge, no? Su Singed In teoria sì Speriamo Io ho un Rylonsol Sto morendo di sonno di merendina Bro, le palline qui sono insane Mille danni sto round Bro, ma cosa? Il mio... Guarda le mie palline What, è vero? Anche io ho fatto mille danni con il mio affare Sai, 920 ne ho fatte Ho fatto un DPS allucinante È devastante Considerando che nemmeno li tocchi, effettivamente è insane Io vado a rely adesso comunque Perché mi han cagato il cazzo Vado a questo che mi da un sacco di abilità Chissà se la ultima mi fa fare più execute così Tu c'hai le palline e c'ho il cerchio della morte Guarda che belli che siamo Che poi non so se si vede in stealth Però se non si vede è incredibile No, vedi, non fa danno in stealth, credo Oh Wait, non fa più danno? Io non capisco se stai facendo danno Io non posso uscire Cioè io sto continuando a danneggiare il tare Ma se è 700 danni sono Ma tu lo vedi il mio mega cerchio Sì, sì, sì È un bel colore poi Tipo viola, blu, rosso Sì, sì Evelynn, Talon Fiddle Kha'Zix, ok Ah, la ulti di Evelynn Wow Epico Lol Sono vivo, eh Sì, sì L'ho ucciso con le palle Aspetta che l'ho ucciso Mi dà più soldi Ok Tieni No Ottimo Ok Ti dà your cut Nice Sì, 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 sì I soldi sono importantissimi Tipo Draven è fortissimo Perché arriva sempre a un item in più di tutti Quando Nelle fasi decisive C'è tipo un item in più di tutti È sbroccatissimo Allora Jax AP è senza senso Poi proviamo Jax AP qua Ma lo sai che sto giocando Jax AP in solo Q Con phase rush ed è fortissimo Vabbè, ok Phase rush Eh, perché fai la combo e poi te ne vai E poi rientri Perché ha la Q ogni 4 secondi È disgustoso Comunque Vuoi sapere, esatto Io faccio danno puro di Riftmaker Grazie a sto coso anche C'è il Riftmaker è perennemente attivo con il cerchio Che sbroccato Anche Ken c'è un cerchio Di cazzo è? Eh, è la stessa No, è diverso C'è dei geroglifici, tipo What? Sborra Non può saltare Sborra Sborra You got sbored Le abbiamo cacciati via Grazie alla sbord Io grazie ai tuoi soldi Posso prendermi anche un oggetto Oltre l'augmento adesso Eh, è sbroccatissima Sa roba Io le spello ogni 2 secondi Mamma mia Big Brain Sembra interessante Quasi quasi ci provo Mi dà 3 di shield Per ogni Per ognuno di appia L'inizio di ogni round Qua si adora Abaddon Lo voglio provare Possentemente allontanarsi Dalla linea gialla Sì dai Sti cazzi Sono 1500 di scudo In teoria Guarda che bello Oh my god State pure lì ragazzi Ho ultato questo Guarda quanto danno prende Non so nemmeno in ulti Oh Sborrati Oh my god Bro Ho fatto 2000 danni di palline Ma è sbroccato Oggetto bene Le fucking palline di Pyke Le palline Sì raga Mi ero un attimo stunnato Ma perché Il mio cervello Voi non che vi sto veramente In una condizione cerebrale Devastante Nell'ultimo periodo Non so come ho fatto A non intare al DUS Finchè 8800 danni di palline È fatto Ma che roba è Come fanno a fare così tanto danno Ma perché sono tante E ogni pallina fa tipo 250 Cioè guarda 250 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 così Incredibile Trastante Anche il mio cose È perennemente danneggiato Il nostro Il nostro dummy Ah Nice, banana Ma Kain e gli permette di staccare L'infinito HP O AD Se la gente sta dentro Al cerchio Ma tu Guardali qui due Ma che roba è Mamma mia, cacciare Warwick pure è something else, guarda la build Zephyr, perplexity, eccolo lì, perplexity Io a sto punto non faccio gli swiftness, sti cazzi, mi faccio altro Fammi vedere la loro build Faccio void stuff Mi vado a GA Ok Che c'è il dammi che prende Ok Ci siamo Ci siamo Ci siamo Quanto scudo ho? 2500 di scudo Bello, bello Eh, sborato Oh my god Però ma Siamo fortissimi Non mi aspettavo Ma abbiamo trovato gli augment troppo forti Comunque Cioè fai più danni nemici Più Al centro che fa danno costante Quindi questi stanno nel panico Se inseguono me faccio danno Dopamina Dopamina Oh mio dio Immobilizzando i nemici qua Faccio danno barn che stacca l'infinito Vai Allora vabbè E' andata Abbiamo soltanto danno barn Noi Questi muoiono guardandoci Mettiamo il pike intanto Già che stiamo Lui stiamo stando di vicino Lo riammazziamo eh Spawna ogni secondo Non riesco Non riesco Aiuto Non sono riuscito a muovermi Ok E l'animazione Oh my god Con la linea che continua a fare danno In un round Ah c'è la famosa linea Che bella che è Quella che potevo prendere inizio Però il double buff mi è servito troppo No Double buff early è stato clutch Che dici Facciamo l'ultima Ma io faccio l'ultima E poi vado Andata 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 Questa è stata Una delle più divertenti Che abbiamo fatto Nell'ultimo periodo